Musica 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 Ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video Oggi torniamo a bestemmiare su Battlefield 1 Sono da solo qui come oggi c'è Mi stimabili che Greg Annota ma No E niente Eh mo voglio Ma tu son vivo Eh beati Niente amici La situazione è grave Abbiamo un team un po' di nermi non è che faccio meglio Mi sta andando a fuoco No ma è tutta colpa della mappa La ciappa della mappa Come si metteva la maschera? Eh fai son morto Mi schermetteva la maschera Ah conti t conti Ok Mettiamo la t Eh siamo entrati siamo entrati Sì sì Però dobbiamo muoverci Se no ci vanno in culo Se no conquistiamo subito a mo No No Non riusciamo più Porco duro Madonna Vai vai che ho ucciso Vai che ho ucciso Eh due buono Neanche il tempo di andare a rianimarmi Che in dicada Ci sono quelli Quelli con il cazzo di supporto storiate Madonna Ma magari casa tua diventa un groviera Che fanno reddititititit No in senso Tripla Che tripla signore Dai sempre forzando Atom giusto? Sì Guarda che arrivo e ti puro Ah madonna madonna Non ho presa vero Come? Cosa? Ahia È un po' tardi Non è mai abbastanza tardi Cazzo Sopra, sopra Il nemico è sopra Grandissimo Mamma mia All'ultimo Kugami kugami Arrivo 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 Chi cazzo è Robone Caffè Ma guarda Mamma mia Ecco La cosa bella È che su Battlefield Puoi anche non farla fermare L'avanzata Cioè no Nel senso Con due colpi Vedi ho detto la stronzata Mi sono beccato il colpo di pompa in faccia Abbiamo il controllo del sepp glare Abbiamo il controllo del seppardo No C'è la conquista Ce la fachim Vai 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 Uncciso Sìììììììì Nel buio Non vedo veramente un cazzo Spagrow bust All' dulu Ti ripeto, la tecnica migliore è quella di insignia, fai utile a giro, fai utile a giro. Ok, non ci sono, quella canata è incendiaria. Come un obiettivo finale a portata di mano? Ok, abbiamo già... Dai, sono su Aio, stiamo prendendo A. Cazzo! Sì, che uccisione! Buonissimo. Ah, l'abbiamo presa. Eh, vabbè, guarda, io qua non mi sono ritrovato tre persone davanti. È stato veramente il blocone di esecuzione. No, no! Eh, vabbè, non ci sta, abbiamo vinto proprio un periodo. Sì, sì, abbiamo vinto a Kungo. Abbiamo subito a gravi perdo. No, ma sì. No, sì, scendiamo a casa nuova, stasera che non mi abbia... Oido cropello. S. Il problema è che da fuori ci sono tutti, c'è chi? Cinque metri, sette metri, no, niente. Ma perché spaga a me? Ci sono 400 davanti, spaga a me. Ah, che cazzo. Perché abbiamo il compagno di squadra che dice che il dolorino al pancino gli sta rovinando un weekend. Se non siamo... Se uno non gliel'ha chiesto nessuno, due non siamo nemmeno né lui. No, 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 in realtà l'ha chiesto solo, però come stai? Grande. Come hai fatto a uccidermi? Vabbè, il fredoro vado, ma vaffanculo. Grande. Oh, vedi, Robones, mamma mia, bravissimo. L'ho sparato in testa quello che t'ha ucciso. Mamma mia, è per questo che sei il capobranco dei miei... Oh, questo! Non posso muovermi, che... Che trasto! Responda da me che stiamo... Siamo su A. No! Ok, uno con ucciso, due, doppietta, doppietta per... Vai, continua! Vabbè, ho capito. Ma sciocchi amico mio. Mi c'era scritto che mi stavano sparando da dietro, Poi un minuto dopo che quello che mi ha ucciso è stato avanti. Non ho capito. Vai, vai! Muovessi! Voglio vedere se trovo... Voglio vedere se trovo un francese... Ti ho visto! Un francese che esiste, gli sparo in testa, però non a me muore, guarda. Dove, sai che... Sono morto. Dai, dai, però, stiamo prendendo... Ah, corri, corri, corri! Corri come se fossi... Nel 1800... Perfetto. ...qualcuno di particolare. Ottimo. GG. Era l'ultima lampa di questa operazione... Fort Voh è nostra. Allora... Allora... Team di Animani... No, di nuovo. Eh, no, di nuovo no. No, no, no. Cambiamo, non sai, sì, sì. Arrivederci, ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.